Musica Ma qui però manca uno, manca Ken Che ne dici di farti vedere? Ormai lui non può mancare, anche lei Ciao, ecco Ciao, ciao a tutti Ciao, 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 ciao Ho un sacco di capelli, barbi capelli Barbi capelli, ci sarà anche la barbi stracciona, la famosa barbona Barbona, certo No, allora, a parte gli scherzi È finalmente arrivato il momento di vedere in sala Barbie di Greta Gerwig Ma da quanto se ne parla è diventato un fenomeno Barbie Nightmare, Nightmare Barbie I piedi di Marco Robby I piedi di Marco Robby, lei si è definita lusingata 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 Insomma, io questo film lo sto attendendo tantissimo Perché Sì, 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 però ce ne sono anche di negative Ma indipendentemente anche dalla curiosità di vedere un film su Barbie Che già dal trailer andava ad omaggiare Kubrick E 2001 che si è nello spazio A me piace proprio Greta Gerwig Sia Lady Bird, sia Piccole Donne Specialmente il secondo film mi è piaciuto molto Allora, è una che tenta sempre di lanciare dei messaggi molto precisi Per quello io ho sempre creduto che il film non fosse solo una commediola Esatto, cioè per me lei con questo film potrebbe continuare la sua analisi sulla donna nella società Palesemente Dai tempi delle scimmie di 2001 Una delle cose che hanno detto nei difetti è che probabilmente è un po' didascalico e un po' come dire semplice Però ti dico anche, sembra un film anche destinato alle ragazzine Ma infatti dovendo abbracciare un grande pubblico nel caso ha senso Ma guardate il nostro look Guardate il nostro look Ma adesso arriva, se Deboz arriva in tempo Se ora Deboz arriva, se Se ora Deboz, intanto attendiamo anche Travatar Se ora quel caprone di Travatar Allora, diciamo una cosa importante In America è uscito in contemporanea con Openheimer di Nolan Da lì Barbie Nimer Previsione, al box office andrà meglio questo Sì, questo qui farà un botto Io ci ho sempre creduto Eccolo! Eccolo qua! Ora pensavo tu ce lo volessi buttare nello sgombra minestra Meno male Allora Travatar Sono di Mallorca No, 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 tu lo sai Sono del partito Dell'altro partito Il partito del piombo Mangio, bevo e Trombo No, ma così volgare Chiedo scusa Chiedo scudo Travatar, cosa ti aspetta? C'è anche Luca Luca e Luca Luca 1 e Luca 2 Tutti in rosa Cosa ti aspetti da questo film? Di ridere tanto Solo ridere O magari anche la critica sociale Io sono Amite quello Sono curioso anche sul doppiaggio Perché mi hanno detto che non è un film facile da adattare E qualcuno è rimasto un po' perplesso Che poi è anche un po' musical l'ho letto Sì, il partito musical dovrebbe essere in inglese sottotitolato Ok, ok Che non è male Non è una scelta che mi dispiace Però Sarà un incassone al box office Siete d'accordo con me? Gigantesco Potrebbe essere No, cioè Super Mario Super Mario non lo fate No, no, però farà il suo Allora io direi di concludere Vada a cagare Super Mario Comunque Perché Deboz non arriva ma apparirà dopo Arriverà, arriverà Offendendo Michele Innocenti Parirà nunca meno Ovviamente quell'energumeno È andato in sala Schifoso Senza vestirsi di rosa Pur essendo il re dei maiali Pur essendo il suo compleanno È andato in sala Senza vestirsi di rosa Il maiale Ma il maiale è una domanda Ma non valeva di fettigiava per tutti noi Mi viene Infatti, infatti Lui ha detto Senza un centimetro di rosa È andato in sala E quindi Che direi? Penso se si sbottona E tira fuori i centimetri di rosa E tira fuori il cataclombo Secondo me non gli piacerà comunque a Michele Vediamo Guardate belli Guardate belli Ma guardando il film C'è anche Margot Robbie inclusa? Sì, sì, sì Assolutamente Alla fine della visione La puoi portare a casa Ok Tutto l'Avatar preferisci Ryan Gosling Ti diamo lui Io preferisco John Cena in realtà Perché la sua versione Sirenetto mi Ok, ok Ok ragazzi Ci vediamo dopo Siamo pronti Siamo cazzuti E ovviamente fate tanti auguri a Michele Innocenti Auguri Michele Ciao Allora innanzitutto Michele Innocenti Puffa scilafava Puffa scilafava Michele Doppio video Doppio video Doppio video Michele Dite qualcosa a Michele Buon compleanno No, no Allora Michele Diglielo anche te Luca Buon compleanno Esatto Allora È bellissimo È bellissimo Domani a facce di nerd Godremo e godromolo Anche perché Anche perché Cioè mettilo così tipo No, proprio schermo contro schermo Ah così Tipo video contro bellissimo È proprio un inception che bello Mamma mia che meraviglia Guarda che ti ha scritto una maiala Ah mi ha scritto una maiala Allora siamo tutti in rosa Ma guardate un po' C'è anche Tanos è accanto a suo cugino Deboz Cioè guardate là Guardate che outfit Tanos è il viola Allora Io sono ancora euforico Allora Tanos Regimi Popcorn Sono veramente euforico E Michele Innocenti Non ci rompere Ci sta scrivendo Michele Innocenti Michele noi dissentiamo Si sapeva Questo è un dissing Non è una recensione Tutti contro Michele Si sapeva che tanto Come son bello Domani tutti Si sapeva Tutti griffati barbi Contro Michele Assolutamente Michele Che è andato intanto In sala senza il rosa Il brutto maiale Prevenuto 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 Però griffato Per me è stato un filmone Per me è stato un filmone Ma per te invece non è stato un filmone È stato un filmissimo È stato un filmissimo Veramente abbiamo goduto come bestie Di Rete 4 Un po' più Però filmissimo Cioè allora È un film Che anche questo didascalismo Che criticano Secondo me Passano delle barbie Attenzione delle barbie Salutate barbie Vi è piaciuto barbie? Vi è piaciuto? Direttamente dal film Direttamente da barbie C'è anche Thanos Secondo me allora Il difetto del didascalismo Non è un difetto No no anzi Rappresentato in un film Dove i personaggi sono stereotipati Ma è proprio un film Che fa divertire e riflettere Assolutamente accordissimo E non è contro i maschi Come si sente dire No anzi C'è la giusta equità E anzi Lancia proprio un messaggio A un certo punto Quasi opposto Esatto Ma poi critica l'eccesso Da un lato e dall'altro Quindi maschi Femmine Fiori Frutti Di tutto di più E io poi Margot Robbie Margot Robbie Margot Robbie Calpestaci Calpestaci col tacco Piedi di Margot Robbie Ora non tutti apprezzano Lui è molto local Molto basic Ma si siede come me È un alto livello Sì 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 Poi le canzoni Anche Ryan Gosling però Anche Ryan Gosling Beh questo si sa Visto che c'era nelle anteprime John Cena Ci scambiamo il cellulare per un attimo John Cena anche My name is John Cena Guardate là E per un po' c'è il mio palmo Ci sarà Vi è piaciuto Barbie? Sì? Perfetto Alla grande Questo lo rivedete Buona recensione Travatar Tu cosa mi dici? Allora Io non sto più capendo nulla Non so neanche più Che vedi che io sono Allora Cosa ne vengono? Però vale per tutti e due Vale per tutti Allora Un po' di da scalico Concordo con chi l'ha detto Il messaggio Oddio nell'ultima parte Ci sono tre monologhi esistenziali Ma è giusto che ci siano Però secondo me Io dico sempre Devi pensare anche al pubblico Più ampio possibile Esatto Perché abbraccio Ma come fa la buona Sergio Bonelli Della Bonelli diceva Devi spiegare le cose tre volte Perché ci sarà sempre qualcuno Che avrà bisogno Della terza Però Infatti a me di una nostra Sui coglioni Moralista Esatto Infatti a me di una nostra Sui coglioni Quel moralista di merda Che muoio Ma non è vero Quanto era quotato Alla SNAI Che Michele Innocenti Avrebbe bocciato Alla SNAI Alla SNAI Alla SNAI Ma forse c'è un riferimento Non lo so Addrizzate le orecchie L'avevano detto Addrizzate le orecchie Non mi ero rimasto Però Però Allora Noi ora Continueremo Mi ridi al telefono Glielo ridò Glielo ridò Me lo di Me lo di Me lo di Allora Non vi fate parlare un rosa Ti ho parlato Solo voi Va bene No ma incamminiamoci Qua per l'Arcadia Incamminiamoci Facciamo un giro Facciamo vedere Facciamo vedere Il tiranno Saurus Rex Con Con I cosi Sulla fava Guardate che bello È rosa anche il T-Rex È rosa anche il T-Rex Vedete quanto rosa c'è là Uomo 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 Andiamo Andiamo a Si 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 Andiamo Più di là Si va a fare qualche intervista alla gente Vi è piaciuto Barbie Non vi è piaciuto Lo facciamo Andiamo a trovare qualche Barbie Sì sì Perché oggi che giuro si parchi il nome non ufficiale Della T-Rex è Roberta Roberta Bene Roventa Per chi non si accontenta Ma senza tagli È tutto dritto Senza tagli Tutto dritto Tutto dritto Tutto una tirata Come disse la Poe Tutto esatto Senza tagli Ah come lo stai per cazzo Allora Però Barbie Bamba Allora Ragazzi parere su Barbie Sublime 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 Ok top Chiede tutti i Kenboy Allora C'è un nostro caro amico Michele Innocenti Che l'ha bocciato Mandatela a fanculo No No Bravissimi 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 Tutti contro Michele Questo Questo Assolutamente sì Questo è il momento Ma non credo siano così Commenti più bello Parere accanto su Barbie ragazzi Vi è piaciuto? Sì è un fantasma quindi guarda chi sono e fino alla prima superiore ho tenuto le Barbie ma fa bello siete innamorati anche un po' tu di John Cena e Sirenetta si è andato troppo divertente meglio John Cena o Ryan Gosling non so chi sia Ryan Gosling alla grande ti posso abbracciare sei il numero uno, venire a vedere Barbie e non sapere chi sia Ryan Gosling grandissimo, sei fantastico grazie ai ragazzi, grazie mille come disse Garibaldi e quindi direi che possiamo chiudere perché abbiamo un po' sentito tutti ora continuate a seguire la recensione perché vi faremo godere Debots sei fantastico, veramente ciao belli, ciao ciao I'm just Paolo, ho ancora la maglietta rosa tanta voglia di ballare perché sono elettrizzato ma anche di parlarvi del nuovo bellissimo film di Greta Gerwig Barbie scritto dalla stessa regista assieme a Noah Baumbach suo marito non vedevo l'ora di vederlo anche perché la regista in questione mi aveva già sorpreso con Lady Bird successivamente con lo splendido piccole donne quindi credevo che con Barbie potesse continuare la sua analisi sul ruolo della donna nella società e così è stato ringrazio l'allegra banda di Matti Disperati che con me è venuta a vedere il film all'Arcadia di Melso come avrete visto dal prologo di questa recensione abbiamo fermato anche gente a caso per scoprire i loro pareri a caldo il film è partito benissimo con 145 milioni di budget ha esordito in Italia con 2,1 milione quindi un incasso stellare vediamo quanto potrà fare nei prossimi giorni ma sicuramente stiamo già parlando di uno dei film che potrà andar meglio in quest'anno dove effettivamente Super Mario The Movie ci ha fatto restare a bocca aperta per il grandissimo incasso di oltre un miliardo non penso Barbie possa arrivare intorno a quelle cifre ma mai dire mai anche perché è un film che merita avevo letto tante recensioni positive anche critiche negative un po' le solite è un film che fa trionfare la donna mentre tutti gli uomini sembrano stupidi no ragazzi mi sa che se la pensate così avete visto un altro film perché non c'è possibilità di sbagliare Barbie critica sia il maschilismo più becero al contempo anche il femminismo più fintamente progressista ci troviamo a Barbie Land dove le tante Barbie i tanti Ken vivono la propria vita e facciamo la conoscenza della nostra splendida Margot Robbie che è la Barbie straordinaria la Barbie stereotipata la Barbie che ogni giorno vive il momento più bello della sua vita e che quindi fa sempre le stesse cose con il sorriso sulle labbra con questi denti bianchissimi che le illuminano il volto con questa voglia di vivere fino a che un giorno ripetendo sempre le stesse azioni e quindi dopo aver cantato dopo aver ballato dopo essere andata sulla spiaggia felicissima un po' come in The Truman Show si accorge che qualcosa non va inizia ad avere dei pensieri funesti dei pensieri sulla morte c'è qualche problema? assolutamente sì specialmente quando una mattina si sveglia e si rende conto che l'acqua della doccia sia fredda che forse il suo alito è cattivo si rende conto che i suoi piedi non siano più sulle punte ma piatti cosa sta succedendo non c'è più quella felicità non c'è più quel sorriso sulle labbra bisogna rivolgersi a un'esperta l'esperta in questo caso è una Barbie considerata da tutti stramba che è mutata nel corso del tempo e scopriamo per raccontarvi un po' la trama in generale senza spoiler che si è creato uno squarcio nella linea temporale che divide il mondo reale dal mondo di Barbie Land quindi la bambina che sta giocando o che ha giocato con la Barbie di Margot Robbie sta riflettendo su di essa tutte le sue negatività tutti i suoi malumori e tutto ciò adesso lo si evince esplicitamente sul corpo di Margot Robbie che inizia ad avere la cellulite a pensare alla morte quindi Barbie stramba manderà la nostra Barbie straordinaria nel mondo reale per cercare di conoscere capire, constatare cosa stia succedendo e per conoscere ripeto questa bambina ma Barbie nel mondo reale come riuscirà a sopravvivere soprattutto non sapendo che esista il maschilismo che esista proprio il più becero qualunquismo lei crede che proprio come a Barbie Land anche nel mondo reale la donna sia importantissima che tutto giri intorno ad essa ed invece si ritroverà in una società fallocentrica patriarcale e quindi sarà divertente ma al contempo anche interessante perché lascia degli spunti di riflessioni notevoli il suo rapporto con un mondo così diverso da come se l'aspettava e con la conseguente delusione che l'attanaglierà prima di capire che forse sia importante trovare un equilibrio che la Barbie non è ben vista come lei poteva pensare che forse per alcune persone è il simbolo del capitalismo più sfrenato della sessualizzazione eppure la creatrice di Barbie ha pensato al giocattolo, alla bambola come ad un qualcosa che potesse far sognare le ragazze che potesse farle immaginare una vita più bella con vacanze da sogno con la vita perfetta che tutte avrebbero voluto quindi il film indaga su queste cose lo fa in maniera semplice ma ciò non vuol dire che non sia efficace ho percepito e ascoltato alcune lamentele che si riferivano al fatto che il film fosse fin troppo didascalico è vero il didascalismo è presente ma per me intelligentemente sfruttato perché comunque è verissimo che dovrebbero essere le immagini a parlare piuttosto che i dialoghi dei personaggi in primis accade anche questo perché a livello tecnico Greta Gerwig parla attraverso la forma però se ci facciamo attenzione riconoscendo che Barbie racconti la storia di bambolotti superficiali si abbraccia bene il didascalismo che ho considerato intelligente in un film dove effettivamente dei pupazzi scoprono di minuto in minuto quale possa essere la vita reale quindi ci sta che si debbano spiegare le cose perché le bambole, i Ken, le Barbie, tutti i protagonisti queste cose qua le devono scoprire e anzi non riescono subito a comprenderle c'è bisogno quindi di didascalismo in un film del genere perché si associa benissimo alla superficialità di personaggi bambolotti che le cose devono apprenderle pian piano poi che il film sia perfetto non è vero ci sono dei difetti ad esempio alcuni personaggi potevano essere approfonditi meglio inerenti al mondo reale ma non voglio dirvi di più le musiche del film di Alexandre Desplee sono bellissime ma anche proprio tutte le canzoni realizzate per il film da quella di Lizzo a quella di Dua Lipa ma anche a quella di Nicki Minaj proprio Fit, Acqua, Barbie World rifatta insomma questa cover I'm Just Can cantata da Ryan Gosling perché ci sono proprio delle canzoni cantate dai protagonisti quindi da Ryan, da Margot il film è anche un musical il film riesce a sorprendere il pubblico e ad abbracciare un vasto target di pubblico potrebbe essere apprezzato dal ragazzino e dalla ragazzina ma anche dalla persona adulta che quando era giovane giocava con le Barbie che quando era bambina passava i suoi pomeriggi con quei bambolotti in mano è comunque un film che nella sua semplicità abbracciando la commedia il fantastico, l'avventura, il sentimentale il musical ti fa uscire dalla sala con la consapevolezza che il mondo possa essere un posto migliore ma che stia a noi renderlo tale e che non è assolutamente semplice anzi se ascoltate bene quel che dice la voce narrante Helen Mirren in originale capirete che ad un certo punto proprio la stessa voce narrante esclami una frase di un cinico incredibile quasi inquietante quando si parla di identità dell'identità e dell'importanza che può capire di avere anche Ken che non dovrebbe più essere un accessorio del mondo della Barbie ma comunque una figura autoritaria e importante tanto quanto la Barbie gli scenari a Barbieland sono bellissimi ripeto, sopra le righe ma volutamente è un mondo dove si sorride sempre è un mondo che la Mattel la Mattel ha creato basandolo sull'importanza della Barbie come se tutto il resto fosse un accessorio è la Barbie che comanda è la Barbie che è al centro di tutto e anche questa è una cosa sbagliata perché ci dovrebbe essere quella che adesso più che altro chiamiamo uguaglianza e che sempre più fortunatamente è presente nel cinema nell'arte in toto ma c'è il rovescio della medaglia nel mondo reale dove invece è l'uomo con il patriarcato anzi al centro del patriarcato ad avere la meglio ci sono dei dialoghi per me in alcuni momenti è vero veramente didascalici ma al contempo altri anche molto ficcanti molto anche veri per quanto cinici sulla falsità di un mondo reale che tante volte illude che le donne possano essere importanti ma al contempo è solo una grande presa in giro per non passare male c'è uno scontro nell'epilogo del film ma non voglio dirvi di più fra uomini e donne fra un sesso e l'altro anche se poi ci troveremo di fronte a un incontro scontro fra persone dello stesso sesso manipolate dalle donne perché le donne capiscono quanto possano essere importanti forti non è un film che vuole sminuire una categoria o sminuirne un'altra ricordiamo che questo è un film su Barbie dove anche il personaggio di Ken può cambiare in futuro magari in un ipotetico film sul personaggio stesso qua si parla di donne che hanno voglia di ritrovare una propria identità che non devono essere pedine dell'uomo in un sistema patriarcale ma che anzi inizino questo cammino di riscoperta questa strada che attraverso anche il mondo reale possa portare a riscontrare a trovare a individuare quel giusto equilibrio che serve imparando apprendendo quindi quel che di buono possono comunicare gli umani ma allo stesso momento facendo sì che anche gli esseri umani possano imparare da quel che Barbieland veicola quindi è un film ricco di sfumature è un film sicuramente capace di dividere e già lo abbiamo visto Margot Robbie e Ryan Gosling sono stati bravissimi del resto Margot Robbie è una delle mie attrici preferite e anche in questo caso ha dimostrato tutta la sua eccelsa bravura entrambi vorrei che fossero candidati agli Oscar perché anche Ryan Gosling ci conferma che grande attore possa essere nel film abbiamo anche America Ferrera abbiamo Kate McKinnon abbiamo anche in una partecipazione speciale John Cena nei panni di Tritone ma anche Dua Lipa Dua Lipa che è importante anche per le musiche del film e poi abbiamo Kingsley Benadir cioè il graphic di Secret Invasion ma da casa MCU arriva anche Simu Liu da Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e poi Will Ferrell nei panni del capo della Mattel beh la cosa più divertente del film è che sia autoironico che si sappia prendere in giro non è una pellicola che vuole fare la morale in modo ipocrita anche perché la stessa Mattel si autocritica la stessa Mattel produttrice della famosa bambola Barbie in questo film rappresentata da Will Ferrell che è il capo della società e da tutti i suoi uomini è la prima a prendersi in giro ad autocriticarsi si capisce quanto per la società siano importanti soldi i guadagni vengono prima di tutto e ci sono dei dialoghi che confermano quel che io sto dicendo poi ci divertiamo ridiamo di gusto si gioca anche sui cliché della Barbie la mancanza degli attributi la mancanza di sesso quindi giochiamo anche sull'importanza di Ken nel mondo delle Barbie se Ken scoprisse che nella realtà gli uomini sono così importanti una volta tornato a Barbie Land si comporterebbe nello stesso modo accettando il predominio delle donne o proverebbe a rendere Barbie Land più simile alla realtà una realtà comunque sbagliata quindi l'eccesso c'è da ambo i lati sia Barbie Land sia nel mondo reale se da un lato sono le donne a comandare dall'altro lato sono gli uomini quindi quando sento dire è un film che fa passare tutti i maschi come stupidi e il potere lo hanno le donne beh non è così perché anche avvicinandosi ai risvolti finali il piano delle donne a Barbie Land di mettere forse tutti gli uni contro gli altri ha un suo perfetto senso è un piano che serve a contrastare un qualcosa di sbagliato già alla radice e poi ci sono dei dialoghi dei monologhi conclusivi che ad alcuni sono sembrati didascali ci a me non ha dato alcun fastidio per i motivi che vi ho già spiegato ma che confermano quanto possa essere seppur difficile importante trovare un equilibrio che forse non avverrà mai ma siamo noi a poter cambiare le cose e perlomeno a poterci provare fino a che dopo film del genere ci ritroviamo è legittimo però a criticare a non veder mai il cambiamento che si tenta di apportare anche nella settima arte e più quell'impossibilità che si veicola anche attraverso le parole della voce narrante si concretizza io adesso passerei ad una parte spoiler per dirvi più nello specifico quel che mi ha colpito vi ho già detto anche la fotografia bellissima di rodrigo prieto il montaggio ma anche le musiche ve l'ho detto prima la scenografia i costumi di jacqueline duran è tutto realizzato al meglio dove il rosa è al centro di tutto a livello di marketing poi questo film cosa dobbiamo dire in america esce in concomitanza con oppenheimer di christopher nolan si sono creati proprio i meme barbie nimer chi l'avrà vinta chi la spunterà sicuramente anche oppenheimer è partito diciamo in maniera buona al box office ma non ha avuto lo stesso successo di barbie che ha riunito qualsiasi target di persone nelle sale magari i bambini potrebbero annoiarsi con questo film perché se pensano di andare in sala per vedere barbie raperonzolo barbie lago dei cigni potrebbero restare delusi ma il film sin dall'inizio ha chiarito chi volesse abbracciare cioè quando in un trailer tu mi citi esplicitamente quel capolavoro di 2001 di sea nello spazio di stanley kubrick non è che si stia dicendo ai bambini venite venite penso che sia piuttosto chiaro a chi si rivolga il film però secondo me anche i bambini più piccoli si faranno portare dai genitori in sala vediamo nei prossimi giorni cosa riuscirà a fare al box office ma per me grandi cose ricordiamo che comunque il film è prodotto dalla stessa margo robbie io sono il primo lo sapete ad avercela con un politicamente corretto che oggi ci attanaglia ma al contempo riconosco anche riconosco anche quando le cose sono ben fatte e in questo caso a mio parere si riesce a far sorridere ma anche a far ridere di gusto ad emozionare a commuovere e anche soprattutto a far riflettere è un film importante soprattutto oggi è un film che non ho trovato per niente falso ma anzi ho trovato intelligente l'ho trovato lineare la durata di un'ora e cinquanta passa alla svelta senza annoiare avrei voglia di rivederlo adesso per me è veramente un grandissimo lungometraggio che rivedrò che acquisterò in 4k così almeno potrò rigodermelo e vi chiedo di farmi sapere la vostra così almeno ne possiamo parlare più nello specifico qua sotto nella sezione commenti adesso farò una breve parte spoiler per rivelarvi più nello specifico quel che del film più mi è piaciuto che più mi ha colpito quindi seguitemi ma vi ricordo anche che nelle info di questa recensione trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social ma anche per abbonarvi al canale se vi abbonaste ricevereste in cambio dei contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana andiamo con gli spoiler allora già per come il lungometraggio parte con la scena ricreata da 2001 di sia nello spazio e inserita in questo barbie dove al posto degli ominidi ci sono delle bambine che giocano proprio con dei bambolotti fino a che arriva la barbie gigantesca che rappresenta il successo che rappresenta la grandiosità che rappresenta il predominio che poi quella bambola della mattela avrebbe avuto su tutto e quindi anche qua non c'è una transizione e una nave spaziale che vediamo nel cielo ma comunque vediamo la vecchia bambola che si lancia nell'aria e la barbie già dal titolo che prende lo schermo in modo brillante in modo assoluto in modo perfetto con la musica tararantantaran 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 tararantaran pampararan 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 momento inderebile con una margot robbie splendida incantevole come al solito quando si toglie gli occhiali e sorride già lì ero in brodo di giuggiole e poi inizia questo film in modo del tutto scoppiettante con il musical che è imperversa con barbie che si sveglia è felicissima e si fa la doccia e si fa il suo pane tostato che cade puntualmente sul piatto e poi tranquillamente dopo essersi vestita in questo mondo rosa se ne va sulla spiaggia dove c'è Ken Ken che alla fine non ha una funzione se non quella di essere un accessorio di barbie di farsi notare da barbie il Ken di Ryan Gosling perché poi abbiamo i vari Ken quello di Simu Liu abbiamo quello di Kingsley Benadir ed è divertente il momento in cui corre verso le onde per far notare di saper surfare ed invece cade all'indietro e c'è questa rappresentazione sopra le righe ovviamente se vogliamo kitsch se vogliamo camp ma è giusto perché stiamo parlando di barbie land cioè non avrebbe avuto senso cercare il realismo in barbie land deve essere un mondo meraviglioso un mondo dove tutto sembra andar bene ma anche lì già lo spettatore può riflettere e capire che in un mondo dove tutto è ripetitivo in un mondo dove tutto è rosa dove tutto è scintillante non servirebbe un po' di realismo quanto può essere eh forse falsa quanto può essere ipocrita una vita dove tutto va sempre bene perché ridondante dove non si conosce anche la eh sicuramente brutalità della vita come ci insegna Rocky nessuno colpisce forte come fa la vita la vita può essere bella ma anche ferocemente bella la vita può essere feroce ma anche ferocemente distruttiva insomma bisognerebbe comprendere tutte le sfumature dell'esistenza quindi se da un lato c'è la positività tossica dall'altro lato nel mondo reale c'è il dolore il dolore che può attanagliare tutti eh la realtà dei fatti è che quando Barbie per il motivo che vi ho spiegato prima nella parte generale riferendosi e rivolgendosi alla Barbie stramba che ha subito lo stesso trattamento che adesso sta eh eh ricevendo la nostra Barbie Margot Robbie decide di andare nel mondo reale per conoscere questa bambina e quanto è bello anche il passaggio dal mondo incantato di Barbie Land al mondo reale dove praticamente si mostrano veri giocattoli cioè tutto ciò che nel film viene ricostruito è stato realmente venduto tutti quegli scenari sono stati realmente creati venduti sui modelli specifici di quelle Barbie arriva nel mondo reale e già percepisce un sentimento mai provato prima il disagio un sentimento di tristezza non l'aveva mai percepito non sapeva Barbie cosa poteva significare piangere ed invece una volta arrivata nel mondo reale capisce che intanto tutti la guardino come se fosse un oggetto come se non fosse una persona e quindi sente dentro un dolore forte al contempo invece Ryan Gosling Ken si sente finalmente importante perché si ritrova in una società fallocentrica vedete quando dico che non si critica solamente una fazione cioè si passa da un estremo all'altro criticando ma giustamente perché se da un lato nel mondo reale i maschi sono al centro di tutto a Barbie World a Barbie Land lo erano le donne quindi noi magari e le ragazze cresciute con Barbie per lì non se ne rendono conto perché pensano che possa essere una cosa normale ma invece l'equilibrio è fondamentale sempre nel mondo reale tanto quanto a Barbie Land ed è interessante vedere come un uomo da sempre sminuito da sempre incapace di sentirsi utile possa al contempo meravigliarsi di fronte all'importanza che gli viene data nel mondo reale e ho apprezzato tutti i momenti in cui tratta le donne sminuendole perché pensa erroneamente che possa essere la cosa giusta da fare e nel frattempo invece Barbie incontra questa bambina e c'è questo faccia a faccia con essa in cui lei considera Barbie un qualcosa di capitalistico che la gente ha sempre odiato un bambolotto da sessualizzare ecco io sono totalmente contrario a quel che dice la bambina capisco il suo punto di vista ma non lo condivido cioè io non ho mai visto la malafede nel bambolotto di Barbie la malafede molto spesso è negli occhi di chi guarda poi sono argomenti molto anche delicati però io ho sempre pensato a Barbie come a quel giocattolo che potesse far sognare le ragazzine che potesse far loro immaginare grazie anche alla bellezza dell'immaginazione come via di fuga una vita perfetta come dice proprio la creatrice che poi alla fine vedremo il fantasma almeno Barbie è stata creata per far sì che le persone potessero immaginare potessero sognare basandosi sulla figlia della stessa cioè Barbara e sul figlio pensate che Ken è morto di un tumore cerebrale pensate che Ken è morto che era bambino quindi la creatrice stessa ha creato questi bambolotti proprio per regalare la bellezza per far sognare i bambini che magari non avevano la possibilità di essere come la Barbie ma che grazie al pensiero potevano invece essere chiunque e questa la trovo una cosa bellissima che purtroppo è stata incompresa dall'altro lato c'è chi invece riteneva offensivo tutto questo ed infatti nel corso degli anni poi la Barbie che prima era mostrata esclusivamente in determinati modi si è avvicinata sempre più all'essere umano e quindi possiamo trovare la Barbie più in carne possiamo trovare la Barbie da poco con la sindrome di Down cose da un lato sacrosante però dall'altro lato forse si perde anche eh quell'autenticità che la Barbie aveva inizialmente che rappresentando quella bellezza quella perfezione riusciva a far sognare qualunque bambina un po' come quando io guardavo Zorro io sapevo di non essere come Zorro eppure nella mia mente vedevo Zorro giocavo con Zorro e mi sentivo un eroe era bello quello non è che mi sentivo offeso perché magari avevo un po' che ne so di pancetta i denti larghi e quindi non ero bello come Zorro non era affascinante come lui e quindi dicevo mi sento criticato no non c'era malafede oggi ripeto purtroppo ci troviamo in un limbo in cui la linea sottile fra progresso e regresso è proprio palpabile quindi bisogna sempre stare attenti ecco il personaggio della bambina l'avrei sviluppato un po' meglio non mi è piaciuto molto come sia riuscita a ritrovare un rapporto con la madre di punto in bianco se il film fosse durato anche solamente 10 minuti in più magari avrebbero potuto approfondire meglio il rapporto madre figlia anche perché poi durante la visione noi spettatori scopriamo che il personaggio più importante sia proprio la mamma e non tanto la bambina che odiava le barbi bensì una mamma che ritrova quei giocattoli ritrova quei disegni che quindi riflette su di essi il proprio malumore e le proprie negatività quindi un minimo più di approfondimento l'avrei voluto il film ha dei difetti ci mancherebbe altro però ripeto fa riflettere perché poi arriviamo ad un finale in cui abbiamo da un lato la mattel che pensa esclusivamente al guadagno è un'autocritica clamorosa che ho apprezzato perché vera pensa al guadagno e quindi cerca entrando nel mondo di barbie di portare tutto a posto nel frattempo ken che finalmente si è sentito importante fa andar tutto allo sbaraglio anche barbie land diventa un mondo patriarcale l'importanza del patriarcato no? e quindi cosa fanno le barbie? le barbie si devono coalizzare unirsi tutte assieme manipolando l'uomo che sembra brutto da dire ma al contempo lo fanno per riuscire a salvarsi da un'ignoranza che sempre più stava dilagando perché purtroppo il mondo reale ha insegnato e veicolato le cose più sbagliate possibili a ken e quindi le barbie unendosi insieme fan capire di non essere le solite donne stupide come inizialmente potevano essere rappresentate fan credere agli uomini di essere d'accordo con loro dipendere dalle loro labbra per poi ad un certo punto farli ingelosire mettono tutti gli uni contro gli altri e nel frattempo dopo che c'è questa colluttazione le donne riprendono il potere loro agiscono così per contrastare un qualcosa di sbagliato alla base ma poi il film non è che finisce con avete visto voi maschi siete inferiori mettetevi in ginocchio e pregateci no c'è questo bellissimo epilogo a mio parere dove anche grazie alla voce narrante grazie a quel dialogo fra barbie e ken si capisce che anche ken possa ritrovare anzi trovare per la prima volta la sua identità che non deve essere solamente il pupazzo di barbie l'accessorio di barbie però è una cosa che deve partire da dentro lui è stato creato in quel modo un po' come nel mondo reale si è creato il pensiero sbagliato e pregiudizievole della donna inferiore al maschio quindi tutto può cambiare ma il film ti fa anche capire in modo cinico che sicuramente non sarà una cosa semplice e c'è quel momento straordinario in cui la voce narrante dice che anche ken prima o poi potrà diventare importante come lo è la donna nel mondo reale avete ascoltato quel dialogo avete ascoltato quella frase della voce narrante che parla con noi e ci dice si si succederà quando mai perché nel mondo reale se continua così se continuano ad andare così le cose le donne non saranno mai importanti poi fortunatamente a livello artistico post me too si tenta di fare la differenza ma quando ci si prova ragazzi è sempre un problema ogni volta anche che si parla di un film dove la donna è al centro la donna cambia colore insomma ci sono sempre critiche su critiche quindi ha ragione la voce narrante non si può fare niente non si può dire niente e lo ribadisco sono il primo ad odiare il politicamente corretto ma bisogna sempre contestualizzare caso per caso che la donna abbia la stessa dignità dell'uomo non è politicamente corretto dovrebbe essere normalità e che quindi il film in modo cinico concluda la propria storia dicendo si tu potrai diventare importante come la donna nel mondo reale può far pensare bene allora non lo sarai mai ma è così del resto pensiamo anche al discorso che fa Ryan Gosling Ken quando entra in quell'azienda e parla con il dirigente della stessa perché vuol trovare lavoro ma quindi non esiste più il patriarcato ma quindi vuoi uomini e di tutta risposta quel tizio fa capire che effettivamente oggi falsamente bisogna dare importanza alle donne ma che sotto sotto tutto continua ad essere come prima cioè ragazzi è un film che criticate perché lo ritenete didascalico e poi in tanti mi rendo conto che faticate a comprenderlo e questo mi dispiace perché se questa pellicola fosse finita con siamo tutti uguali che bellezza uomini e donne e quindi anche Ken può diventare possiamo rinominare Barbie Land Barbie Ken Land sarebbe stato falso sarebbe stato utopico sarebbe stato veramente ipocrita perché purtroppo nella realtà bisogna lottare con le unghie e con i denti per far sì che anche le donne abbiano la propria dignità per far sì che le donne possano camminare per strada in gonna senza sentirsi carne da macello da utilizzare quindi il film è anche reale non ci sta dicendo che è oggettivo che cambiamenti non possano esserci è difficile ci fa capire che sicuramente sia difficile ma poi sta a noi sta a noi fare la differenza sta a noi esseri umani quindi io questa cosa l'ho apprezzata veramente tanto poi può avere le sue sbavature può avere le cose che sicuramente si potevano trattare meglio ma è comunque un grande film è un grande film che non mi ha offeso in quanto maschio io sento dei pareri che mi fanno restare un attimo titubante massimo rispetto per le opinioni diverse dalle mie sicuramente anche ben argomentate alcune di esse però resto un attimo titubante poi parla di talmente tanti temi magari fin troppi e questo potrebbe essere un altro difetto che si fa anche un po' di confusione a metterli tutti insieme però anche solo se pensiamo al faccia a faccia tra Ken e quell'essere umano nel mondo reale se pensiamo al faccia a faccia tra Barbie e la bambina che parla di ehm capitalismo che parla di sessualizzazione se pensiamo a Barbie che si sente una donna oggetto e non aveva mai percepito questa cosa anche lì poi si dovrebbero aprire delle parentesi perché come ogni cosa ci sono dei lati positivi e negativi bisogna ovviamente contestualizzare perché non c'è niente di male in alcuni contesti pensiamo durante il sesso può essere un piacere proibito sentirsi donna oggetto o uomo oggetto cioè se noi apriamo qualsiasi sito pornografico quante donne amano essere schiavizzate quanto al contempo uomini godano nel farlo quindi come tutte le cose bisogna contestualizzare la donna oggetto è un male in certi casi così come l'uomo oggetto può essere invece un pro in altri quando c'è il consenso va bene fino a che ovviamente si fanno le cose nel rispetto delle leggi cioè nel rispetto insomma anche dell'intelligenza bisogna sempre riflettere cioè in un contesto diverso la donna può essere un oggetto se una donna ama durante ad esempio l'amplesso sessuale considerarsi farsi trattare come un oggetto può essere anche eccitante per la coppia in quel momento così come l'uomo cioè adesso più che altro si parla sempre di uomini a cui piace farsi fare quello quell'altro schiave robe che a me lasciano perplesso però ognuno nel proprio privato può fare tutto non voglio star qui a dirvi moralmente cosa per me è giusto cosa per me è sbagliato ci mancherebbe massimo rispetto però ecco bisogna sempre contestualizzare perché altrimenti perché altrimenti saremmo ipocriti saremmo veramente ipocriti perché non si può condannare la donna oggetto quando ad esempio la pornografia si basa esclusivamente e secondo me non in modo sbagliato su la donna considerata come tale e l'uomo anche in certi casi considerato come tale serve ovviamente l'intelligenza di saper contestualizzare come quando si parla di sesso il sesso può essere una cosa bellissima quando è consensuale può essere una cosa devastante quando è uno stupro quindi contestualizziamo in quel caso la barb in quel caso la nostra barbi si sente a disagio perché persone che non l'hanno mai vista prima non la guardano in faccia non la considerano una donna la considerano un oggetto da usare le fanno battute volgari che possono mettere a disagio la persona e non con intenti simpatici o comunque con intenti da galantuomini bensì con intenti offensivi brutali quindi in quel caso giustamente margot robbie barbie critica l'essere sessualizzata lo critica ed è giusto che lo critichi quindi come state capendo il film parla di tanti temi temi che se approfondissimo uno per uno magari non finiremmo neanche domani di parlarne però è sempre importante capire è sempre importante anche capire quanto la contestualizzazione di ogni evento sia fondamentale per non schierarsi da un estremo ma nemmeno dall'altro quindi a me il film ha fatto riflettere a me il film ha fatto pensare ha fatto pensare che nel mondo che vorrei ci dovrebbe essere realmente l'uguaglianza ci dovrebbe essere realmente la consapevolezza che almeno penso si possa cambiare e dove sembrerò ingenuo chiamatemi come volete il rispetto possa essere al centro di tutti anzi può essere anzi deve essere al centro di tutto su tutti questi importanti argomenti Greta Gerwig mi ha fatto riflettere ho apprezzato lo ribadisco il tono più campi il tono comico mi è piaciuto tantissimo il finale in cui Barbie dopo aver parlato con la creatrice sceglie di essere umana e quindi va dalla ginecologa e quindi capiamo che possa essere una mamma che abbia imparato dal mondo reale quanto la vita possa colpire ma al contempo possa essere anche bella quanto è importante vivere giorno per giorno non in modo ripetitivo e ridondante abbracciando un'ipocrita felicità o una positività tossica ma capendo che siamo noi a poter fare la differenza che possiamo creare idee e non solamente essere idee di qualcun altro è un film per me progressista ma nel senso più pregevole del termine è un film che dovrebbe far riflettere grandi e piccoli ed è un film che nella sua semplicità ricordando che abbraccia ogni tipo di pubblico può far veramente pensare pensare quindi ragazzi questo è il mio parere al riguardo fatemi sapere la vostra nella sezione commenti noi ci vediamo presto per un altro video ma Greta Gerwig fa centro un'altra volta ciao ciao